buon pomeriggio sono vittoria marcucci dell'ufficio stampa di top doctors oggi siamo in compagnia del dottor luigi grosso specialista in ortopedia e traumatologia con lui parleremo di spalla dolorosa buon pomeriggio dottore buon pomeriggio a tutti quanti voi dottor grosso potrebbe spiegarci quali sono le cause più comuni del dolore alla spalla nella sua esperienza bene le cause più comuni del dolore alla spalla in realtà sono all'incirca a 10 di queste qualcuna si ripete però prima di elencarle fondamentalmente io farei una distinzione perché nella patologia della spalla esistono tre ordini di patologie cioè tre momenti in cui il paziente può avere dolore in conseguenza di una causa e questa causa può essere una causa infiammatoria e quindi si parla di spalla infiammatoria può essere una causa degenerativa e quindi si parla di spalla degenerativa e può essere invece un trauma che ha provocato una frattura in cui in questo caso si parla di spalla traumatica o spalla fratturativa bene è chiaro che in quest'ambito logicamente noi abbiamo una distinzione fra quella che è il dolore acuto e il dolore cronico chiaramente il dolore acuto è quello traumatico perché tu hai un colpo cadi ti fai male si frattura la spalla la clavicola la spalla l'omero quello che sia è chiaro che hai un dolore acuto e quindi va in pronto soccorso e il medico del pronto soccorso ti fa una prima prestazione però io metterei da parte questi dolori di spalla di tipo traumatic e mi fermerei soprattutto sui dolori di spalla di tipo degenerativo e di tipo infiammatorio e qui sono fondamentalmente 10 le cause prima di tutto una delle cause più frequenti è una patologia infiammatoria la cosiddetta spalla infiammatoria tendinea cioè i tendini della spalla conosciamo tutti quanti la cuffia dei rotatori e quindi sappiamo che ci sono questi tendini e abbracciano la testa dell'omero quindi la testa del braccio proprio come una cuffia per questo si chiama cuffia però quella che si mette in testa quando ci fa la doccia e quindi fa proprio così una copertura della testa perciò si chiama cuffia dei rotatori ecco queste sono una serie di tendini che per over stress meccanici quindi per funzioni ripetute del movimento del braccio vanno incontro ad infiammazione e quindi si scatena il dolore e quindi questa è la spalla infiammatori fondamentalmente come ho detto sono i tendini della cuffia dei rotatori ma a volte possono subentrare anche in patologie infiammatori di altri tendini che non appartengono alla cuffia dei rotatori poi abbiamo la spalla degenerativa l'altro grosso capitolo che vi dicevo prima e in questo caso nella spalla degenerativa una delle cause più importanti è quella degenerativa artrosica cioè c'è il consumo della cartilagine che può essere un consumo sia dell'articolazione tra l'omero e la scapola quella che viene chiamata l'articolazione scapolo omerale e quindi un'artrosi di questa articolazione può provocare dolore ma poi c'è anche un'altra articolazione e cioè quella tra la clavicola e la scapola che si chiama articolazione acromion claveare anche questa produce dei dolori se va in contro a una degenerazione artrosica poi ci sono altre degenerazioni che appartengono a altri tipi di articolazione perché apro parentesi l'articolazione della spalla il movimento della spalla questo movimento che sembra fatto da una sola articolazione in realtà per fare questo movimento della spalla entrano in gioco cinque articolazioni tutte cinque contemporaneamente come un orologio schizzero che si muovono contemporaneamente tutti e cinque ci fanno fare questo movimento le due più grosse sono quelle della scapola omerale e della cromion claveare e quelle che vanno più frequentemente incontro a una patologia generativa artrosico con dolore le altre un po meno ma lo specialista della spalla le deve prendere in considerazione perché di tanto in tanto possono essere loro la causa di un dolore come possiamo distinguere tra un dolore alla spalla lieve di lieve entità e uno che richiede attenzione medica immediata cioè dottore quali sono i sintomi che non possiamo assolutamente trascurare ma i sintomi che non dobbiamo trascurare io dico sempre che quando compare un dolore della spalla anche se lievissimo di lieve entità è sempre opportuno rivolgersi a un ortopedico sì va bene però io che sono specialista della spalla ritengo che sia meglio che si vada a fare una consulenza dallo specialista della spalla per un semplice motivo perché oggi l'ortopedia non è più come una volta che l'ortopedico si occupava di tutto e di quello che era l'apparato muscolo scheletriche nel corso degli anni così con la medicina generale si è sviluppato il cardiologo il nefrologo il neuro eccetera eccetera anche nell'ortopedia non c'è più questa ortopedia generale ma i specialisti hanno preso delle direzioni c'è lo specialista della spalla e del gomito c'è lo specialista del piede c'è lo specialista del ginocchio c'è lo specialista dell'anca e ogni specialista che si occupa di un settore particolare del muscolo scheletrico ha delle qualifiche notevoli per esempio io posso essere bravo per quel che riguarda la spalla il gomito il polso e la mano ma lo dico apertamente magari per un problema al piede io c'è un mio carissimo amico che fa lo specialista dei piedi io gli rimando a lui dico tu sei più bravo di me interessati tu dei piedi così lui per esempio c'è un paziente che ha un problema alla spalla li mando a me perché perché ogni specialista ha una sublimazione della sua capacità diagnostica e anche delle sue capacità terapeutiche per cui penso che questo sia il presupposto migliore per poter affrontare un paziente e decidere cosa è meglio quali sono le diverse opzioni di trattamento per il dolore alla spalla ovviamente a seconda della causa questa è bellissima mi piace perché mi dà l'opportunità di poter aprire la discussione su quello che tante volte arriva anche sia da me in ospedale che in ambulatorio cioè le persone arrivano già con tutta una documentazione radiografia e tacc risonanza magnetica per cui lo specialista radiologo scrive lesione del tendine e arrivano lì dice dottore adesso che ho fatto la diagnosi sono venuta da lei così lei mi opera allora io dico non è così semplice perché ci sono molte patologie che non vanno assolutamente operate cioè un tipo per esempio che un paziente di 70 anni no che c'è un dolore alla spalla e che fa una risonanza eccessiva basta anche un'ecografia fatta bene e che si vede che c'è una lesione di un tendine ecco quel paziente non va operato mentre può capitare che qualcuno potrà dire no si è rotto il tendine e quindi ti devi operare bisogna sempre calibrare la proposta terapeutica per quel paziente certo se un paziente giovane 30 40 anni è chiaro che io lo opero perché ha un'aspettativa di vita piuttosto importante sia nella sua attività di lavoro che magari nell'attività sportiva e ha bisogno di una spalla nel pieno delle sue funzioni ma un paziente di una certa età può tranquillamente vivere senza problemi anche se magari un piccolo tendine è rotto perché quello che fa muovere la spalla non è la cuffia dei rotatori ma è un altro muscolo che si trova sopra quello che poi fa vedere il profilo della spalla che è il muscolo deltoide ecco questo muscolo qui è quello che fa muovere la spalla per cui se ci sta un piccolo tendine sotto appartenente alla cuffia dei rotatori che è magari sfibrillato parzialmente rotto o a poco rotto eccetera il danno chirurgico è maggiore del beneficio chirurgico e quindi bisogna sempre stare molto attenti ecco questa è la mia indicazione terapeutica nei pazienti che arrivano da me e decidono di essere curati il dolore per esempio un dolore acuto va trattato immediatamente ma va trattato immediatamente escludendo la patologia fratturativa che deve essere logicamente trattata in maniera emergenziale ma un dolore acuto la prima cosa da fare è quello di mantenere il braccio fermo quindi mantenere il braccio a riposo quindi bloccare il braccio e non farlo più muovere mentre nel dolore invece cronico ecco lì bisogna vedere la causa e eliminare la causa non l'effetto quindi non trattare il dolore come spesso accade che si tratta il dolore ma invece bisogna andare a curare la causa che ha determinato quel dolore e a volte per eliminare quella causa che ha determinato il dolore ci vogliono diverse settimane io per esempio in alcune patologie di tipo infiammatorio dico ai miei pazienti guardate che ci vogliono 5-6 settimane per guarire da quella infiammazione della spalla poi faccio un esempio simpatico per fare un bambino ci vogliono 9 mesi quindi per guarire da un'infiammazione di spalla non è che fai così e guarisci no bisogna che i tessuti si rigerano e quindi per rigenerarsi hanno bisogno del tempo dottore qual è il ruolo della riabilitazione e della terapia fisica nel trattamento del dolore alla spalla? quali esercizi sono consigliati per migliorare la stabilità e la mobilità di questa articolazione? bene il ruolo del fisioterapista che coadiova il specialista ortopedico nella sua attività è fondamentale io ho un rapporto meraviglioso con i fisioterapisti perché praticamente è come se io facessi una torta e ci mancano le candeline quindi il fisioterapista è quello che mette le candeline e quindi una torta senza candeline non è festa per cui questo fa capire quanto per me è importante il ruolo del fisioterapista e quante volte insieme con i miei amici fisioterapisti insieme abbiamo fatto un'ottima sinergia per risolvere le problematiche del paziente quindi abbiamo agito sinergicamente io e lui per cercare di ottenere il massimo del risultato tante volte però che cosa succede? succede che anzi ultimamente mi sta succedendo spesso che il paziente ha un problema alla spalla e automaticamente non so per quale motivo si rivolge solo al fisioterapista quindi vada al fisioterapista pensando che il fisioterapista poi gli risolve il problema va bene io lo ripeto per me il fisioterapista è importantissimo ho fatto questa premessa però il ruolo del fisioterapista deve essere un ruolo che deve essere sinergico a quello dell'ortopedico e altrimenti se noi nella tempistica di azione terapeutica invertiamo i ruoli è come noi facciamo la pasta mettendo prima la pasta e poi l'acqua e si mette prima l'acqua si fa bollire l'acqua e poi si mette la pasta e viene una pasta meravigliosa ma se tu nella pentola ci metti prima la pasta e la fai cuocere e poi dopo ci metti l'acqua non viene bene più o meno la stessa cosa molti cosa fanno? hanno un dolore alla spalla vanno dal fisioterapista che magari gli fa la fisioterapia e non gli crea affatto un beneficio anzi probabilmente gli crea magari un danno perché quel paziente con quel dolore aveva bisogno di riposo quindi curare prima il problema tipo infiammatorio e poi magari fare una buona fisioterapia ecco questo è la ringrazio molto per il suo intervento colgo l'occasione per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il dottor Luigi Grosso attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors attraverso il suo intervento